Carni ringiovanite con l'utilizzo di sostanze chimiche, nitriti e sorfidi che ridanno colore e simulano freschezza, nonostante l'inizio del naturale processo putrefattivo. I carabinieri del NAS di Catania, del comando provinciale di Messina, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno portato alla luce la pratica illegale ancora molto diffusa tra i macellai messinesi. Dieci le attività controllate a campione, in sei casi gli esami analitici hanno dimostrato un uso smodato di sostanze e concentrazioni molto elevate e pericolose per la salute pubblica, soprattutto nei macinati a base di carne. Additivi non consentiti e non dichiarati che agiscono come veri e propri allergeni e possono provocare effetti tossici talvolta letali. I titolari delle macellerie sono stati denunciati insieme al gestore di un noto deposito all'ingrosso, i militari del NAS annunciano controlli anche in provincia, ma non hanno comunicato il nome delle attività che hanno commesso gli illeciti riscontrati. La denuncia non prevede la diffusione dell'identità, ma i consumatori probabilmente avrebbero tutto il diritto di sapere chi sono i macellai che hanno trattato la carne con sostanze nocive alla salute. Così facendo inoltre si getta discredito su tutta la categoria e si fa di tutta l'erba un fascio.